Quando una coppia è travolta dalla passione. Tu adesso prendi la tua borsa, ti sciogli i capelli, ti ricordi i ristorantini in collina? Nulla è impossibile. Quello con le camere sopra. La firma sulla fideiussione? Non te l'ammetto. Passate la fame, Gnugno. E se l'amore è sincero... Basta pensare le cose brutte. Pensiamo noi. Il matrimonio sarà un trionfo di dolcezza. E le feci, le feci sono verdi. Alberto, annusa un po' Ugo. Come dici, dottore? Vedi se da dietro mandatore di tartufo? Di grande stima. Amore? Sussina? Ti chiamo Gnugno perché sei uno Gnugno. È di immensa considerazione. Brava, brava. Non basta, mi ha affatto. Ora... Non bisogna perdere la speranza, dottore. Sia forte. Per una moglie spietata. Mi affarevano bene. Sai, con sta crisi c'è da fare i soldi a palate. E un marito in affanno. Noi concediamo finanziamenti sulla base di certi requisiti. Il coraggio, l'ottimismo. È la firma di sua moglie. È arrivato il momento di trovare una soluzione. Finiamola qui, divorziamo, sì. La soluzione ce l'hai davanti agli occhi, non la vuoi vedere. Divorziare! No, no, fino a che morte non vi separi. Morire beve. Perché a morire? Devo essere proprio io? Vado a godermi lo spettacolo. 01 Distribution è lieta di presentare Fabio De Luigi e Luciana Litizzetto in una commedia poco romantica dai risvolti fatali. Alberto! Ma si può sapere cosa succede? Ma niente. Perché? Ridevi nel sonno. Dal 10 ottobre al cinema.